Due su due nelle gare casalinghe, il futsal Nuceria fa bottino pieno tra le mura amiche, battendo per 9-1 il woman futsal grottaglie. Le rossonere dilagano nella ripresa dopo una prima frazione giocata forse con un pizzico di presunzione di troppo. Giornata di prime volte al pala coscioni, le pugliesi cancellano lo zero nella casella dei gol realizzati nelle prime tre di campionato. Sul versante campano, primi sigilli stagionali per Francesca Amato, Benedetta Dello Ioio, Carola Lamberti e Anna Paola Gamardella che chiude il conto delle reti con una doppietta. La cronaca futsal Nuceria in avanti fin dalle prime battute con l'estremo ospite Iunco in evidenza. Al sesto però si sblocca il punteggio, Amato si fionda su una palla vagante e da fuori area in sacca all'incrocio dei pali. La risposta ospite è firmata a Guarini, migliore in campo per il Grottaglie. Sulla sua strada però trova pronta Ianiello, ancora titolare dopo l'infortunio al ginocchio occorso a D'Amelia. Le padrone di casa trovano spazi nella metà campo ospite ma raddoppiano solo al dodicesimo al termine di una rapida combinazione barba attanasio finalizzata da Foddai. Doppia traversa per la stessa Foddai poco dopo il quarto d'ora, prima con un missile dalla distanza. Poi dopo la respinta di Iunco su conclusione di Tirozzi con una sventola a botta sicura. Il Grottaglie c'è e potrebbe accorciare le distanze ma Ianiello si oppone in piega plastica sul tentativo di Guarini poco prima dell'intervallo. Nella ripresa la musica cambia dopo la strigliata del tecnico di casa. Nel giro di un minuto arrivano tre gol al quarto. Benni Dello Ioyo fa tutto da sola a sinistra battendo di punta Iunco. Quest'ultima la ripresa del gioco innesca il contropiede che porta al primo gol stagionale per le pugliesi firmato Galeone. Palla a centro e in pochi secondi Carola Lamberti ristabilisce le distanze con una sventola da lunga distanza. 4 a 1. La gara si mette in discesa per il Fuzz al Nuceri. Al sesto Palumbo dialoga con Pina Lamberti chiudendo in gol la triangolazione. La sesta rete rossonera al dodicesimo con la rimessa laterale di Amato e il diagonale di Foddai sul quale Iunco però non sembra esente da colpe. Si rivede il Grottaglie a impegnare Lambiase. Da poco subentrata tra i pali a Ianiello. Al tredicesimo Guarini chiama l'estremo nocerino alla respinta con una sventola da lunga distanza. Al sedicesimo il duello si ripete da distanza ravvicinata con uguale esito. Negli ultimi tre minuti il Fuzz al Nuceri a rotonda. Al diciassettesimo Foddai concretizza su assist di Amato. La segue Gamardella dopo 15 secondi effettivi con una bella conclusione da fuori area. E ancora l'ex atleta del Fuzz al Coenet a 10 secondi dal termine. Si libera bene su un duro contrasto a sinistra e infila in diagonale Iunco per il definitivo 9 a 1. di Amato. Grazie. Grazie. Grazie.